Sanremo 2018 Michelle Unziker si è scatenata ballando, Despacito, con Pierfrancesco Favino. In quell'occasione la presentatrice ha indossato un abito Charleston Vintage di Alberta Ferretti. Abito che però era già stato indossato da Marika Pellegrinelli ai Glamour Awards 2016. Chi è Marika Pellegrinelli? Ma l'attuale moglie di Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle e padre di sua figlia Aurora. Eros Ramazzotti e la modella Marika Pellegrinelli si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figli Raffaella Maria di 6 anni e Gabriel Tullio di 2 anni. Eros Ramazzotti